Tante idee? Nessuna soluzione! Bernie sogna di riabbracciare il suo amico Ziggel E non è certo un tipo che si arrende facilmente Così un'idea tira l'altra Riuscirà il paduro più furbo del mondo a tornare sulla terra ferma? Scopritelo con le disavventure Le avventure di Bernie Una nuova serie Da lunedì 13 marzo alle 17.35 Su Thea Kids Grazie